numero 5 questa è una bellissima coperta fatta di lino di alta qualità eco friendly sostenibile e durevole è disponibile in molti colori acqua marina blu grigio chiaro grigio scuro lino naturale viola e rosa grigiastro la varietà di sfumature insieme al suo esterno in lino lo rendono una scelta ideale per abbinare l'arredamento della vostra stanza è facile da pulire infatti è lavabile in lavatrice a 40 gradi e può anche essere asciugata a bassa temperatura è certificata oek otex in termini di materiali è resistente agli acari della polvere e minimizza quindi i problemi di allergia è disponibile in tre misure e tre opzioni di peso per ogni misura trovi il link amazon di questo prodotto in basso nella descrizione numero 4 questa è una coperta di raso di cotone mercerizzato al 100% dal bel design traspirante funzionale a 7 strati tra cui un esterno in raso una fodera trapuntata e due strati di tessuto non tessuto resistente all'umidità riempiti di microperle di cristallo ben distribuite è disponibile solo in grigio scuro è un colore neutro che va bene in molti ambienti è certificata oek otex che garantisce la qualità sanitaria e il rispetto delle norme ambientali in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto su amazon numero 3 è una coperta pesante molto comoda e piacevole ed è una buona alternativa nel caso in cui non vi dispiace che i materiali tessili siano completamente sintetici a sei strati fodera morbida fodera interna imbottitura perle di vetro imbottitura e copertura in microfibra svolge bene le sue funzioni terapeutiche è efficace contro l'insonnia ed è piacevole al tatto sia all'interno che all'esterno sul lato interno ha una texture di piccole palline che contribuisce all'effetto sensoriale di questa coperta ponderata è disponibile in grigio e blu puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 2 è una coperta rosa pesante disponibile in diverse dimensioni e pesi ha un prezzo molto conveniente i suoi materiali sono certificati a tossici è traspirante e confortevole anche nei mesi più freddi è abbastanza sottile il che la rende più piacevole da sentire addosso le tasche sono di 4,5 centimetri e sono ben cucite quindi le perle di vetro sono ben distribuite e rimangono al loro posto per esercitare la pressione appropriata per chi le indossa in termini di dimensioni ha un comodo formato king sitze ideale per letti grandi viene fornito con una borsa ecologica per la conservazione e il trasporto un altro vantaggio interessante è che può essere lavata in lavatrice trovi il link di questo articolo in descrizione numero 1 questa è una coperta pesante realizzata con tessuti ipo allergenici di alta qualità è fatta di cotone poliestere e microsfere di cristallo le cuciture interne impediscono alle perle di vetro di spostarsi assicurando una distribuzione uniforme del peso include un rivestimento spugnoso per aumentare il comfort durante il riposo ha una superficie in rilievo con strisce verticali che è molto piacevole al tatto il rilievo insieme alla morbidezza del tessuto offre qualità sensoriali che completano l'effetto rilassante della pressione sul corpo il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso i link in descrizione per la prossima